Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. A terra bloccando le navi che sono a mare e che chiedono di poter approdare in Italia e continua addirittura facendo una legge ad hoc, un decreto ad hoc per sgomberare una fabbrica occupata per un ballo di massa. Un vecchio capannone abbandonato. E facciamo un decreto legge ad hoc che tra l'altro potrebbe applicarsi a qualunque situazione a quale... Questo è molto interessante. Il famoso decreto contro i rei parti. Perché ci sono forti con i deboli e debolissimi con i poteri forti. Hanno descritto i due governi meloni. Ha ragione Santoro quando dice... Sì, hanno ragione tutti e due.